Allora, veniamo ancora in sottofondo per parlare un po' di questo brano, d'altro canto siamo tutti di modi delle cariche. Forza castellus e suonis suonis quattumonus, su scudetto aratorrai arzianta in boccias arzianta ceu, il sugeru del castellu, il sugeru antapolati. Io non sono bravo a farla pensato purtroppo, di questo mi dispiace, però sono bravo a portare in ogni dove, ovunque vado in Europa, una bandiera, o dove soggiorno degli avventi, oppure chiaramente qualche personaggio che vado ad incontrare nei ristoranti, negli hotel, negli stadi. E questo piace sempre, è sempre emozionante vedere i nostri quattro umori, no? E questo è un mino davvero che noi vi riprendi. Sentiamo che è un'unica maurice su questo brano, no? Come vi è venuto? Niente, è stata un'idea, così è stata molto abbastanza, tutto molto naturale, parlando un po' del piede del meno, è capitato di avere a che fare con una futura presentazione di un libro su Cagliari e sul Cagliari, e vista la mia esperienza decennale anche di Ex Ultras, vabbè, anche un po' di nostalgia, perché allo stadio non posso più andare per motivi di famiglia e di lavoro, anche se abito a un tiro di schiopo, per cui sento i cori, le urla, Santeria. E in pomeriggio, così, un momento di malinconia, ho buttato giù queste... mentre giocava al Cagliari, sentivo il pubblico i cori e poi naturalmente con un interprete e una voce così non poteva che diventare un inno e una... Grazie. E nel finale fai quell'urlo, non il culo, eh? L'urletto lirico, lo chiamiamo a casa. Cioè, la cucina fa quello, è pazzesco, eh? Da quando ero piccola, dai quattro anni, quando ho iniziato a parlare. Cattando, no? Mamma! Non scherziamo, no? Sì. Dei cagnolini, sono due, però oggi c'è l'altro. Sì, perché l'altro è a Baione, un po' agita. L'altro è calmissimo, lui è calmissimo. No, ho visto che lui si è seduto di giù, è buono. Sì, sì, è buonissimo. No, non mi è venuta a puntare. Insomma, in questo periodo che avete fatto, dai, raccontate, raccontate... Se voi si incertano a te, come siete fatti? Sì, ma siete fatti. Nel frattempo Maurizio ha scritto un'altra canzone, si intitola Sarruga e Susoli. Ah, una novità questa, una canzone buona. Sì. Ci seguono attraverso Facebook, saluto Marco, Marco, è uno sponsor di questo programma della Caccia Internazionale a Cuglia Granadosca, e poi Luciano, che è responsabile della MSB, Riccordi? Riccordi? Allora, parliamola tu, non lo so di cosa parla. E poi Luciano, ex giocatore del Campania a Caccio, che mi segue sempre su Claudio, e comunque di giochi a te. Quindi è un gran nuovo, cosa facciamo? Andiamo a ascoltarci... Lo ascoltiamo? Sì. Sì, subito. Bene, sì. Ecco, si sistemano un attimo e poi puntiamo subito. Vediamo com'è di bloccare la cuglia. Allora, ok. Posso anche non usare le cuffie? Puoi anche usare? Sì, sì. Così, sì. Così, sì. No, no, no. Allora, via, via con la musica! Sì, sì. Sì, sì. In San Ruga Prusbella, in San Ruga e sa' luci, ti rendi una voce. In San Ruga Prusbella, in San Ruga e sui soli, e ci rendi una voce, ci rendi amistrali. Ci fiano sabateri, accanto a nuvo sferi, ci fiano bella venina, chi di braccia sui preri. Con una tazza e vino, giochendo i cialandroni, ameri e i sdottori, e a me un gianno e i sbandoni. In istari e ieri, trastimenti sa' vita, trastimenti sa' sordi, a rienti sa' morti. Pippi usa pugiletti, femmina spugiletti, e scoppa usa brucianti, e scrocio aranzio galletendi. Arruga e sa' fatti, e scaletis e scoro, in San Ruga e sui soli, a tua alunus tesoro. In San Ruga e sui soli, in San Ruga Prusbella, in San Ruga e sa' luci, ti rendi una voce. In San Ruga e sui soli, in San Ruga e sui coro, e ti rendi una voce, a tua alunus tesoro. In San Ruga e sui soli, in San Ruga, in San Ruga e sui soli. In San Ruga e sui soli, in San Ruga, in San Ruga e sa' luci, ti rendi una voce. In San Ruga e sui soli, in San Ruga e sui coro, e ti rendi una voce, a tua alunus tesoro. In San Ruga e sui soli, in San Ruga e sui soli, in San Ruga e sui soli. Spero che vi sia piaciuta.